ciao a tutti e bentornati qui con captain of industries il nostro impianto nucleare funziona abbastanza bene anzi molto bene infatti ho quasi disattivato del tutto la mia produzione di corrente elettronica da questa parte qui perché mi sono accorto proprio su questo possiamo anche tirar via che adesso ve lo faccio vedere qui mi sono accorto che se questo qua io lo metto al massimo non mi ricordavo più e posso attivare tre turbine cioè posso attivare sei turbine di queste senza andare a utilizzare più l'impianto qui sfruttando il carbone o il gas o quello lì però poi ho troppo gas allora ho disattivato di nuovo due di queste e riattivato questo qui così che lo facciamo andare a gas almeno sfruttiamo anche il gas perché ne abbiamo tantissimo ed è un peccato anche perché poi dovremmo bruciarlo e non ne vale la pena tanto vale che bruciamo un po di gas un po di carbone e il nostro impianto qui funziona ok poi ho fatto una piccola modifica nuovamente a questa zona qui vi ricordate che avevamo fatto questa zona qualche puntata fa perché avevo bisogno di spazio è questa parte qui era messa qua e mi bloccava un po tutto allora ho trasferito questa parte l'ho trasferita di nuovo di qua e qui poi ci ho messo la produzione rossa la produzione dei server la produzione dei lavatrici le lavatrici il computer perché faremo anche il computer da qui e i pannelli solari sono tutti questi qua che hanno bisogno di acciaio infatti li ho collegati tutti così così questo bisogno di acciaio questo bisogno di acciaio questo bisogno di acciaio per fare i pannelli solari che andremo a fare e questi hanno bisogno di acciaio perché sono le lavatrici ok ma tutti questi però necessitano di tantissimi teraflops perché senza teraflops purtroppo non riusciamo andare avanti e ho già messo in funzione anche questi per andare avanti però abbiamo bisogno del laboratorio 5 per fare il laboratorio 5 abbiamo bisogno di andare a modificare sta parte qui perché abbiamo bisogno dei microscopi blu verde no cosa viola viola blu quello che è che significa che qui la nostra produzione così non funziona più a proposito la manutenzione gialla l'ho messa qui e più avanti quando avremo bisogno della manutenzione rossa metteremo pure qui tanto anche la manutenzione rossa necessita di parte meccanica fammi vedere si è i microchip rossi che li portiamo con i camion allora questa parte qua ma modificata perché così non va bene perché questo quello che mi fa i viola vedete un po abbiamo bisogno di dodici rossi il che significa che adesso questo me ne fa sei o raddoppiamo tutta questa produzione qua o dovremmo farla tutta con questa però questi hanno bisogno di tanti teraflops e noi adesso non ne abbiamo nel momento in cui avremo tanti server l'andremo a fare dopo questo qua lo andremo a posizionare qua sotto che è l'unica l'unica cosa l'unico posto dove potrebbe essere utile adesso c'è quel cacchio di cosa qui che in un mondo dell'altro faremo allora adesso siamo qua questi rimettiamo come vediamo se possiamo andare un pelo più indietro al suo punto se la dovremmo fare dobbiamo solo forse allontanarci con questi perché abbia bisogno di uno due sì forse così sì allora vediamo un po qua bastano anche quelli lenti che tanto non mi interessa e questo qua e poi e poi 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 scendiamo un pelo ok siamo questo qua questo qui e questo mettiamo così anzi no mettiamoci questo mi piace più così ok allora andiamo a fare subito questo fatto questo possiamo tirare via questo così siamo posto e qui andremo a modificare adesso sta roba vediamo un po come farla tiriamo via questo 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 e poi tutto questo wow questo cos'è qua è un pezzo di cosa che era rimasto della cosa precedente allora vuota questo vuota 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 la trova no via ok allora facciamolo in modo che dopo quando abbiamo i teraflops possiamo andare a modificarlo subito così non abbiamo più problemi di c'è di spazio più che altro perché con le fabbrichette così andremo a metterne dove sono qui possiamo metterle benissimo una qui una qui una qui e una qui e facciamo da qui facciamo i bianchi qui facciamo i gialli qui facciamo i rossi e qui andiamo a fare i viola vedete che qui parte con 96 qua ne ha bisogno 48 ne possiamo fare anche due in quel caso di questi se vogliamo e abbiamo una bella produzione perché qui alla fine vengono fuori 6 e 6 12 questi ne hanno bisogno adesso questo non ve lo dice vediamo se abbiamo questo qua questo ne ha bisogno di 4 che significa che ne abbiamo anche troppi ok ma per adesso dobbiamo farlo in modo diverso perché teraflops non ne abbiamo e che significa che è l'unica che ci teniamo è questa tutto il resto lo facciamo con le fabbrichette vecchie allora prendiamo questa che metteremo qui direi che possiamo stare anche qua allora questo ha bisogno dei bianchi per fare bianca abbiamo bisogno di parte elettronica e meccanica ok questo ha bisogno dei gialli questo ha bisogno che è quello che ha bisogno di tantissime cose tutto il resto poi questo è rosso e poi il viola che adesso poi adesso metto qua vediamo un po come metterlo allora fammi vedere non posso stare più qua perché altrimenti non ci sto però ok è questo è una vediamo un po siamo troppo alti dobbiamo stare più o meno qui ok allora questo mi fa i 48 di questi 48 non ho bisogno di due segno 24 che significa che facciamo un copia e lo mettiamo qui questo ha bisogno di bianca questo ha bisogno di bianchi così non mi piace e siccome dobbiamo andare su di due 1 2 stiamo qui 1 e stiamo qui questo me lo faccio girare così no ok allora questo ero bisogno di acciaio e di carta la carta allora l'acciaio prendiamolo da questo è acciaio sì questo è acciaio aspetta che devo prima metterci una di queste anche questo poi ha bisogno dei microchip che gli arrivano pure da qui anche questo ha bisogno di due allora questo questo ha bisogno di microchip e dei gialli e questo ha bisogno dei microchip rossi e dei cosi allora allora questo ha bisogno di carta 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 adesso carta la facciamo con questa e questo ha bisogno di calce che prendiamo uno di questi poi abbiamo bisogno di vapore vapore ho scazzato vapore che faremo con uno di questi abbiamo bisogno di uno di questi ok ma abbiamo bisogno di quello che ma c'è da l'arigname qua e siamo a posto e poi abbiamo bisogno di uno di questi qua e uno di questi qua ok e questo è la situazione allora andiamo a fare un po lo dovrebbe essere a posto allora qua abbiamo detto che ci vanno i microchip le schede elettroniche rosse andiamo a metterci qua dov'è questo opposto questi fanno i rossi questi fanno i gialli e questi fanno i gialli questo fa i bianchi che mi divide a destra e sinistra e questo qua arriva tutto va bene questo mi deve fare la carta questo funziona così questo funziona così qua ci va legna mettiamolo qui e qua ci va questo e mettiamo così ok e questo è a posto allora probabilmente abbiamo un po di materiale che adesso vogliamo voglio andare a riciclare non c'era proprio questo così non ce la facciamo vediamo un po attacco qui perché di sicuro ho un po di i truccioli 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 qua ce li ho e li utilizziamo un'altra cosa vediamo un po quanta roba mi è rimasta qui truccioli ci sono questo e questo questi devo devo recuperarli tutti sa roba qua i rossi e i bianchi ok i rossi che adesso facciamo così questi sono quei questi sono quelli che mi fanno i rossi che per adesso non utilizzeremo andiamo a copiare uno di questi qua ci mettiamo i rossi ok adesso questo lo collego qui vado a farlo che è successo qua no non c'è bisogno e queste due per adesso li mettiamo in pausa fin quando non abbiamo finito i rossi qua dimmi quando sei vuoto ok ok allora anche questo è fatto adesso deviamo questo non aspetta questo va girato perché altrimenti non funziona allora torniamo a deviare uuuh dov'è qui 9 questi li mettiamo qua questo lo tiriamo via perché non abbiamo più bisogno di questo qua così siamo a posto ragazzi sguattiamo qui ma potevo anche evitare questo vabbè uguale ormai è andata allora via 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 e via ok e possiamo iniziare di nuovo a ricercare qualcosa perché abbiamo comunque bisogno qua come messo adesso dei pistoni dei cosi rossi non ce ne sono più qui puoi venire a prelevare comunque perché qua va bene allora possiamo il laboratorio ce l'abbiamo perfetto per prima cosa andiamo a nave portiamo la nostra nave al massimo delle sue capacità e nel frattempo andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per il nostro la nostra manutenzione che ha bisogno di parte meccanica perché questi hanno bisogno di manutenzione gialla non solo manutenzione rossa più avanti probabilmente ah no ancora dobbiamo farla ok la faremo dopo no ancora è bloccata perché dobbiamo fare prima dobbiamo creare 20 schede elettroniche rosse ok allora dovremmo farcela vediamo un po come si è messi qua cosa vuole sì perché comunque loro consumano 8 e gliene arrivano solo 6 potrei mettere in pausa questo o per meglio dire no non mettiamo in pausa questo mettiamo in pausa il nastro così facciamo il pieno a questo così almeno uno lavora al cento per cento e siamo a posto allora andiamo a fare i nostri benedetti microchip probabilmente abbiamo tutto adesso vediamo allora aspetta che alla fine non ho collegato questo ma l'avevo fatto no troppo questo quando ne ha bisogno 24 van bene anche questi ok allora vedete che il materiale arriva un po dappertutto perché abbiamo il rame ok rame oro plastica che è dappertutto o no qua ve ne manca uno qui come mai me lo sono dimenticato ok o abbiamo bisogno di operai andiamo a fare gli operai devo mettere in funzione anche la cosa delle lavatrici perché dimenticato lavatrici ci sono perché non lavora o cosa manca qui parte elettronica e no qui qui abbiamo fatto una cavolata aspetta no 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 aspetta 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 che abbiamo fatto una cavolata allora via questo via questo via questo perché se aspetto che me lo svuotano ci mettono una vita ok ok 1 2 oh no 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 questo deve girare pari e questo deve girare a 1 va bene ok altrimenti non ci arrivo allora no 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 aspetta fermati 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 che non ho mica bisogno fino a lì 1 è qua ok 1 è qui dai poi andiamo 1 ehi 1 2 è questo qua ci siamo sì adesso sì ok alla parte elettronica questo lo metto di nuovo in funzione e questo lo giro per adesso così mi svuoto di nuovo tanto là in fondo per adesso non oddio no mi servono che significa che puoi andare anche avanti perché dobbiamo mettere in funzione anche questi perché così mi fa il microchip ma tanto me ne serve solo esclusivamente uno per adesso mettiamo in funzione solo questo per sbloccare il dove questo qui dobbiamo fare 20 20 di queste come si chiamano qua schede elettroniche rosse allora andiamo a vedere di nuovo qua qua mi entrano il buffer di silicio il buffer di silicio me lo trasforma in microchip di fase 1 da 1 passa a 1 da 1 a 1 b da 1 b a 1 c ok qua mentre 1 c mi fa 2 a qua diventa da 2 a a 2 b e da 2 c e da 2 aspetta qua è 2 da 1 2 a da 2 a 2 b e da 2 b a 2 c 2 c mi diventa 3 a 3 a 3 b e 3 b 3 c stessa cosa qui che mi fa da 3 c a 4 a da 4 a 4 b e da 4 b al microchip perfetto microchip che entra qua nel momento in cui cosa vuoi tu oh non abbiamo abbastanza teraflops perché 50 a ho capito perché c'è anche questa che consuma 4 e anche questa che consuma 4 oh ma questo non l'avevo messo in funzione perché mi mancano le schede elettroniche ok ragazzi allora finalmente mi è arrivato il materiale per mettere avanti i teraflops perché ragazzi altrimenti siamo un po' i scarsi e ne dovremmo fare altri minimo altri due perché anche i laboratori hanno bisogno che significa che di qua di produzione ne abbiamo tantissimo bisogno fin quando non mettiamo avanti quei benedetti server qui abbiamo sfruttiamo questi solo che questi sfruttano una tonnellata di elettricità dobbiamo vedere come ci mettiamo comunque per adesso allora i teraflops sono arrivati vediamo un po' allora qui la produzione funziona che significa che abbiamo sfruttato le schede rosse che avevamo fino adesso abbiamo finito di consumare i cosi e questi li abbiamo messi leggermente avanti ma adesso li ho rifermati perché altrimenti non mi funziona la produzione qui ho bisogno di teraflops che significa che dobbiamo aspettare un po' qui a quanto pare vediamo funziona 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 per prima cosa dobbiamo fare quei benedetti 20 vediamo quante ne abbiamo fatti me lo dice ne abbiamo fatti già 4 ok nel frattempo ho dato anche se è molto brutto da vedere come ho fatto qui e come ho fatto qui come ho fatto qui mi sembra che anche da un'altra parte e sto svuotando piano 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 tutto quello che avevamo qui adesso mi rimangono solo i pistoni gialli e quelli rossi e un po' di medicinali che in un modo e l'altro andiamo a fare vediamo allora i pistoni gialli li metto qui e i pistoni rossi purtroppo adesso non ho qua è pieno si ma questi sono tutti piccoli oh guardate qua ce n'è allora facciamo così aumentiamo almeno questo dei pistoni rossi così mi svuoto di questi pistoni rossi ok questo per adesso metto in pausa facciamolo così allora facciamolo così qua me li ha tirati via ma 5 dai in un modo e l'altro dovremmo farcela ok allora la nave a gasolio funziona la nave del carbone funziona la nave qui per quanto riguarda l'uranio funziona dobbiamo mettere in funzione la nave per lo zolfo ma per adesso ce l'abbiamo poi sei già riempito mannaggia aspetto dai fallo pieno ruota che poi posso tenerlo anche così e lui ruota comunque allora vediamo come si è messi 80 perfetto allora abbiamo fatto gli 80 16 gli 80 ce l'avevo già prima ok possiamo andare a vedere cosa possiamo fare dopo il nostro reattore nucleare 2 che più o meno funziona come quello che abbiamo montato fino adesso l'unica differenza è che questo ci produce anche del plutonium plutonium il plutonium e che va smaltito in un modo o nell'altro che dopo possiamo trasformarlo mettendoli dentro al magazzino per 28 anni poi possiamo andarli a rottamare e possiamo fare medicinali numero 3 perché dobbiamo andare a fare solo un come si chiama dobbiamo fare la morfina e poi piano 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 avviciniamo i computer i pannelli solari 2 i razzi e compagnia varia ma questo però ragazzi nella prossima puntata vediamo se ci siamo arrivati 20 20 ci siamo arrivati perfetto vedete che anche qui si è sbloccata la cosa possiamo metterlo aggiungere alla nostra lista delle cose da fare e andremo a fare nella prossima puntata manutenzione 3 e tutto quello che avevo detto nel frattempo accumuliamo un altro po' di materiale per andare a fare i teraflops faremo i server faremo tantissima roba però nella prossima puntata di Captain of the Swiss un salutone ciao 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 ciao